Buongiorno, sono il cuoco del Cimbaling King con una parte della mia brigata. Io sono Edwin e anche noi abbiamo deciso di seguire la guida a ristorazione. È arrivata la nuova guida a ristorazione 2023, Alessandria e provincia. Vi aspettiamo! Ecco qua, ragazzi, è arrivata la guida a ristorazione, ben la quinta edizione, così se non sapete dove andare a mangiare e bere nella nostra provincia, anche a Casale, potete affidarvi alla guida della Diamond. Vi aspettiamo! Wow! È arrivata anche da spaltra la guida alla ristorazione! Super! Wow, ragazzi, anche da spaltra guida alla ristorazione! Dai, è arrivata nuovamente la guida alla ristorazione per il quinto anno consecutivo, qui in Piazzetta della Lega. Prego, acquistatela! Grazie! Grazie a tutti.